Lo sport pratolano continua a mietere successi. Dopo la straordinaria vittoria dei nero stellati che hanno conquistato la Serie D, quella della Virtus Prato, la promossa in promozione, l'accesso nella finale play-off per la prima categoria della Morronese, anche il volley non scherza. Arrivo risultato importante per l'Under 18 femminile della Gran Sasso Valle Prato la 78, dove il titolo regionale è conquistato dall'Under 14 femminile la scorsa settimana. Le ragazze peligne sono in finale regionale, a un passo dall'ambito traguardo. La finale territoriale si è disputata nel palazzetto dello sport di Mosciano Sant'Angelo. In semifinale il Roseto ha battuto il Torrione e l'Aquila per 3-0, mentre le ragazze peligne hanno battuto il Teramo per 3-2 dopo 5-7 tiratissimi. Nella finale le ragazze del coach di Bacco si sono imposte con il punteggio di 3-1 sulla palla a volo Roseto. Ciliegina sulla torta è stato il premio alla migliore giocatrice della finale, il capitano della volley Prato la 78, Noemi Pignatelli. Ora le ragazze pratolane si prepareranno per la finale regionale, che si disputerà a basto domenica 21. Le altre squadre qualificate sono la pallavolo Roseto, l'Antoniana Pescara e il basto, in bocca al lupo, alle peligne del volley.